Il Comune di Capaccio Pestum ha ottenuto il decreto di finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo comunale a Capaccio Scalo. L'opera, per un importo di 950.000 euro, sarà realizzata a valere sull'asse 8 nell'ambito del Port Campania FESR 2014-2020. L'amministrazione Palumbo ha deciso inoltre di intitolare la futura opera pubblica al professore Luigi Di Lascio, concittadino che ha dedicato la propria vita profondendo un impegno inesauribile nella difesa delle fasce più deboli e delle donne. La struttura pubblica, che potrà accogliere fino a 50 bambini, previene degli spazi interni ed esterni per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, spazi per il riposo dei bambini e anche una cucina interna per la preparazione di pasti a chilometro zero. L'area esterna sarà costituita anche da uno spazio dedicato ai giochi, panche e tavoli in legno. Sarà inoltre un edificio completamente green, costruito con l'edilizia sostenibile e l'utilizzo di fonti di energia. Alternativa. Ancora una volta parlano i fatti, evidenzia l'assessore delle politiche sociali Annalisa Gallo. Questa è la politica del fare, a servizio di cittadini che hanno bisogno di risposte certe e servizi sempre migliori. Con il finanziamento dell'opera compiamo un altro passo importante in avanti per la realizzazione di una struttura dove i bambini inizieranno a esplorare il mondo muovendo i primi passi verso il loro futuro. Per questo motivo, conclude Gallo, abbiamo voluto intitolare la futura opera al professore di Lascio, un cittadino di elevatissimo spessore umano e culturale che tanto si è predicato per la nostra città.